Tentano una truffa presso un ufficio postale, ma sono stati scoperti e denunciati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia. Una coppia, un 38enne e una donna di 32 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, si presentavano per percepire illecitamente i mandati di pagamento. Intercettavano le missive inviate dall'Agenzia delle Entrate e compilavano la delega per la riscossione al loro nome, falsificando la firma del delegante o del reale beneficiario del rimborso, corredandola con documenti apparentemente autentici. Poi si presentavano all'ufficio postale e riscuotevano illecitamente le somme dei rimborsi IRPEF. I due malfattori sono stati sorpresi dagli agenti della squadra anticrimine del Commissariato di Battipaglia all'interno di un ufficio postale del centro cittadino, dove stavano tentando di incassare un rimborso IRPEF anno 2016 pari a 1184 euro. La presenza dei due allo sportello è insospettito il direttore dell'ufficio postale, che ha chiesto l'intervento dei poliziotti, che hanno ricostruito la dinamica della truffa, e ha accertato la responsabilità penale della coppia, che è stata denunciata all'autorità giudiziaria per concorso dei reati di truffa e falso materiale.